Siamo fra le cinque scuole d'Italia ad aver vinto questo premio, essere stati riconosciuti come istituto, modello, scuola modello per l'internazionalizzazione. Quindi tre scuole del nord Italia, una del sud e per il centro sud, insomma dalla Liguria, dalla Pianza sino a Casarano, ci siamo noi del Marconi e questo è un grande riconoscimento. Il 5 di ottobre saremo al Ministero a partecipare a questa cerimonia di presentazione. La nuova sede del Liceo Marconi potrà ospitare solo 34 classi dalle 69 previste, ma nonostante qualche difficoltà non ci sono stati problemi per le nuove iscrizioni. Nonostante la mancanza di disponibilità di spazi siamo riusciti a raggiungere un grande traguardo. Da 1.400 alunni siamo arrivati in soli due anni a 1.600 e anche più. Quindi i genitori, le famiglie, l'utenza ci ha dato grande fiducia perché nonostante siamo divisi ancora per un po', ancora per pochi mesi in quattro plessi, oltre che insomma la sede, compresa la sede centrale, le iscrizioni continuano a aumentare. E per il primo giorno di scuola la dirigente ha scelto una sede alternativa, il multisala dell'Arca. Siamo qui ad accogliere tutti i ragazzi delle classi prime e dar loro un messaggio diverso, che la scuola è inclusione, accoglienza, benessere, amore, passione, entusiasmo, tutti gli ingredienti giusti per poter riuscire poi nel loro futuro e assicurare questo successo formativo. Un in bocca al lupo non solo ai ragazzi ma anche a tutta la squadra. Viva il lupo per tutti, per tutta la comunità educante del grande Liceo Marconi di Pescara.